1943, Varsavia, truppe naziste soffocano la rivolta ebrea. 1974, Milano, arrestato Luciano Ligio. 1929, Los Angeles, prima premiazione dell'Academy Award. Commenta il Fatto del Giorno Luigi Vicinanza, direttore di Il Tirreno. Oggi parlo di Ugo Lamalfa, un politico della Prima Repubblica, rimasto inascoltato. Quant'erano importanti tenere in ordine i conti pubblici?